Ciao a tutti ragazzi, sono Veronica e volevo chiedervi dei consigli. Allora, volevo tramite degli altri video, oppure come sia, delle immagini e delle foto, se voi mi potevate consigliare dei prodotti per i capelli sia liscianti che dici, perché per farvi venire unici, volevo sapere la marca, il prezzo e i vostri pareri. Più ne mettete è meglio per me. Grazie mille, ciao!